Il broccanto Dolce Gabbana è ricco, è lusso, texture e colore. Segue dei canoni fedeli al DNA del brand, che è molto forte, e si rinnova ogni stagione seguendo il tema della collezione. Nasce dall'input dato dal signor Dolce e dal signor Gabbana. Nel caso specifico l'input era il tema ellenico. Su questo tema abbiamo fatto una ricerca e successivamente sviluppato delle disegnature a mano. Le stesse sono state approvate dai signori stilisti per procedere alla realizzazione della messa a rapporto per i piazzamenti dei capi, a seguito delle quali si è realizzato il broccato Jacquard. Grazie per la visione!